Una vittoria gettata alle Ortiche, a meno di un quarto d'ora dalla fine, con l'uomo in più, il Giulianova sciupa una grossa occasione per avvicinare la zona salvezza. Contro il Monte Giorgio è finita 2-2 e resta invischiato in piena zona play-out. Un paio di ingenuità sono costate care ai giallorossi che erano riusciti a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa. Il primo errore è quando Diamutene abbatte in area di rigore Nasic dopo neppure sei minuti dal fischio d'inizio. Dagli 11 metri Mariani trasforma nonostante Bifulco intuisca la traiettoria. Il pareggio il Giulianova lo trova subito dopo. Tutto nasce da una punizione in favore degli abruzzesi con una spizzata di testa di Vitelli che allunga la traiettoria verso Nazari. Nuovo colpo di testa e palla sul palo più lontano da posizione comunque defilata. La gara è vivace, ricca di spunti tecnici con un Giulianova ben messo in campo da Del Grosso con un 5-3-2 e il Montegiorgio con un 4-4-2 che porta spesso una delle mezzali quasi ad allinearsi con gli attaccanti. Al 14esimo comunque vehementi le proteste dei locali che sugli sviluppi di un corner calciato da Trillini chiedono il rigore dopo il colpo di testa di Marchionni che manda il pallone sul braccio largo di un difensore. L'arbitro Marra di Mantova non in giornata lascia proseguire. La formazione ospite per una decina di minuti occupa stabilmente la metacampo avversaria. Torelli e Vitelli hanno delle buone occasioni ma sprecano sul fronte opposto. Mariani e Ndiambè trovano un bifulco attento. Paura al 32esimo quando resta a terra l'estremo di casa Mercorelli dopo un'uscita coraggiosa a mano aperta. Il gioco resterà interrotto per quasi tre minuti. Fortunatamente si riprenderà. Montegiorgio in dieci uomini al quarantesimo. Trillini protesta in modo vivace nei confronti del direttore di gara che prima estrae il giallo e poi direttamente il rosso. Gara in discesa per gli abruzzesi che ad un giro di lancette dal 45esimo trovano il vantaggio con Balducci. Rimessa con le mani di D'Antonio verso Torelli. Pallone gettato in area dove il numero 8 del Giulianova lo intercetta d'esterno facendogli prendere una strana traiettoria spegnendosi poi in fondo al sacco. Al termine della prima frazione di gara l'arbitro verrà accerchiato dai giocatori del Montegiorgio che protesteranno a lungo per l'espulsione di Trillini e per la mancata concessione di un rigore. Nella ripresa il Giulianova per larghi tratti dà l'impressione di controllare la partita. Mister Delgrosso tiene la linea difensiva a 5, inserisce poi Ramcu al posto di Balducci per avere forze fresche a metà campo, mentre dall'altra parte Baldassari opta per una punta albanesi al posto di un esterno Zancocchia. Se la gioca nonostante l'uomo in meno, al 31esimo l'episodio del secondo calcio di rigore per i marchigiani, punizione di Mariani, Diamutene va in contrasto con Tempestilli. Per l'arbitro ci sono gli estremi per concedere il penalty, apparso per la verità generoso. Mariani spiazza Bifulco, parità numerica ristabilita quando viene espulso per proteste il capitano giallorosso Nazari. Nel finale Mister Delgrosso prova a vincerla dentro Barlafante e Suriano al posto di Cipriani. Ottima la sua prestazione e Cesario, ma il risultato non cambierà. Mister abbiamo visto tanto carattere da parte della sua squadra perché poi sotto nel punteggio avete cercato di recuperarla, tanta grinta nonostante l'inferiorità numerica, è arrivato questo calcio di rigore che vi ha permesso di conquistare un punto prezioso che cancella in pratica le ultime sconfitte e muove la classifica. Sì, è stata una partita molto dura, sapevamo che il generale era una squadra curiacea che poteva metterci in difficoltà, però prima di dire questo vorrei dire che meritavamo sia noi che il giorno nuova un'alterna arbitrale un po' diversa. Le stesse parole dette da Federico Delgrosso. Lo dico perché questo campionato è un campionato importante, queste partite sono partite importanti, mandare un arbitro di questa caratura qua forse potevano fare un'altra scelta. Ma questo al di là degli episodi, perché se vogliamo dire gli episodi, un calcio di rigore sul colpo di destra di Marchioni talmente netto che penso che solo loro, tutti e tre, non l'abbiano visto. Quindi detto questo però siamo tornati in campo il secondo tempo, nonostante l'inferiorità numerica ci siamo messi diversamente, dentro lo spogliatoio ci siamo un attimo messi a posto sia mentalmente sia adatticamente e poi penso che il secondo tempo anche in dieci abbiamo dimostrato avere carattere e penso che alla fine il risultato sia giusto. I cambi che lei ha operato hanno dato il segnale preciso anche a chi era sul tappeto verde cioè questa partita doveva essere recuperata perché lei ha messo una punta in più, insomma ha cercato fino alla fine il pareggio. Sì, visto che eravamo sotto abbiamo cercato di metterci con tre attaccanti fissi diciamo e ci è andata bene, sai dopo i cambi a volte vanno bene a volte male, oggi è andata bene però ripeto era importante rivedere la squadra sul lato caratteriale e questo c'è stato. Mister Delgrosso, il Giulianova non riesce mai a mantenere un vantaggio, davvero un'ingenuità perché la partita sembrava ormai indirizzata verso la vittoria. Sì, è una cosa che mi fa arrabbiare molto perché non è la prima volta quindi è un dato di fatto che comincia un po' un attimino a pesare perché ecco, anche oggi una partita in mano con uno in più non abbiamo saputo sfruttare questo vantaggio che poteva essere utile ai fini della classifica. Ecco, quattro pareggi consecutivi, insomma una vittoria avrebbe dato maggiore peso anche ai pareggi precedenti. Sì, esatto, mi dispiace perché la prestazione alla fine i ragazzi l'hanno anche fatta, soprattutto il primo tempo dove avevamo preparato la partita in questo modo, sapevamo di affrontare Montegiorgio un Montegiorgio agonisticamente pronto visto anche le tre sconfitte da cui veniva, però al primo tempo credo che abbiamo interpretato bene la gara, poi ci mettiamo anche di mezzo un arbitraggio discutibile sia per l'una sia per l'altra, per carità non è che, però ecco, dopo sono tutte cose che si sommano e che poi vanno a determinare un risultato che secondo me a noi ci ha penalizzato. Ecco, il Baby Cipriani ha disputato un'ottima partita, poi nella parte finale di questa gara hai cercato di vincerla perché hai messo energie fresche, nuove lì davanti in attacco. Sì, sì, ma i ragazzi hanno offerto una buona prestazione, ripeto, è chiaro che quando poi pareggio una gara con due ingenuità difensive di un giocatore esperto come Diamutene, cosa vogliamo andare a dire? Purtroppo non condanno nessuno perché sono errori che ci possono stare, perché può capitare una giornata storta, però questo è un dato di fatto.